Non è proprio vivo, lui chi è? Si potrebbe vedere, dove chi è? Si potrebbe inventare, si potrebbe riusare Non è proprio vivo, lui chi è? Non è proprio vivo, lui chi è? Ecco la capacità, lui chi è? C'è difficile farlo con te, ma no no Il piano no, non l'avremo considerato Non è proprio vivo, lui chi è? Non è proprio vivo, lui chi è? Non è proprio vivo, lui chi è? Grazie a tutti, grazie a tutti.